la fiera di milano è terminata ed io sono di nuovo qui speravo che mi moglie me perdonasse invece niente quando ha visto la foto con minotauro è andata su tutte le furie e mi ha detto fai schifo io ho detto a mo cazzo ma è un fauno manco un fauno me posso in tutto questo la cosa positiva è che sono riuscito a recuperare la mia roulotte che era stato occupata da quel gruppo di circensi guardate i trapezisti che schifo che mi hanno lasciato guardate che roba per farlo ho dovuto sconfiggere il clown che è stato sicuramente il più ostico ma gli ho tolto pure la parrucca e il nasino e la tromba che conserverò come cimeli di guerra fanculo via da qua dai tu via no qui nella stalla forza cammina o anche tu nella stalla io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto lontano da mi moglie che animali meravigliosi ho deciso di dargli dei nomi lui è pacciani sempre avanti chers manson andrea volpe e questi ancora devo decidere ecco la cristiano ronaldo sto scegliendo un altro po di nomi per le mie fantastiche papere allora lui è nello taver quello è giovanni fois in onore di giovanni che mi ha regalato questa bellissima felpa poi è appena uscita dall'acqua gianmarco saulini chiara ferragni e 17